novità fresche di giornata certo il numero 723 di zenith zagor il presagio questa che se ho ben capito è la prima di cinque parti del nostro zagor che ritorna ad avere a che fare con il conte barosi il vampiro quindi un'altra storia che riprende un personaggio storico della saga di zagor qui abbiamo la pubblicità sia del bis 723 sia del prossimo numero 724 e poi e poi ho preso anche criminal a coloni un altro mitico storico personaggio di max bunker disegnato anche questo dal compianto magnus dal titolo clavier concert pubblicato insieme alla gazzetta dello sport anche questo insomma criminal un altro cavallo di battaglia di max bunker mitico max due ottime scelte zagor e criminal